Ciao ragazzi, oggi vi parlo di questi guanti che vi sono appena arrivati. Bellissimi innanzitutto. Sono di altissima qualità il colore bordeaux e nero. In particolare notiamo che sulla parte esterna c'è un'imbottitura in schiuma precurbata che salvaguarderà appunto le nocche dai vostri colpi più forti e soprattutto notiamo anche l'estrema estensione della protezione per le vostre dita nonché la protezione anche per il pollice. Quindi avrete una protezione della mano globale. In particolare all'interno notiamo questa sorta di maniglia che è una particolarità di questo guanto ed è molto importante perché indirizzerà al meglio la chiusura del vostro pugno e anche appunto il colpo. La chiusura la troviamo in un cinturino estremamente lungo, sempre in pelle ed avvolgente con una doppia chiusura a strappo. Questa chiusura rende appunto i vostri polsi più sicuri e quindi non resta poi che provarli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.